Un appuntamento con l'Arezzo Calcio Femminile per la quattordicesima giornata del campionato nazionale di Serie B. A Lorentini di Pescaiola arriva l'ex capolista Permac Vittorio Veneto. Esordio per l'occasione in panchina per la nuova allenatrice dell'Arezzo Calcio Femminile Nazarena Grilli, che cambia modulo alla sua squadra passando dal classico 4-2-3-1 di Manuela Tessa al modulo 4-4-2. Nella formazione assente Baracchi per squalifica scende in campo dal primo minuto Tellini a fianco di Zeghini in difesa. Arzeli a centrocampo e in avanti viene dita a coppia Paganini-Tecci. Il Vittorio Veneto si affida al Bomber Piai, nove reti stagionali, come unica punta con Manzon e Zanon a svariare fra le linee. Il match inizia subito in salita per l'Arezzo, che al quinto minuto va sotto. Cross di Manzon per la corrente Mantuani, che sigla il vantaggio ospite. Poco meno di un minuto e Paganini di spalle riesce a conquistare un calcio di rigore. In Genua, nell'occasione del difensore del Vittorio Veneto. Dal discreto si presenta Teci, che non sbaglia, pareggiando l'incontro per il capitano dell'Arezzo, prima rete stagionale. Al quattordicesimo Manzon svetta più in alto di tutti e riporta avanti il Vittorio Veneto. Poco dopo arriva anche la terza rete della squadra avversaria con Zanon, che da posizione defiliata esplode un destro che termina laddove Antonelli non può arrivare. Nella ripresa l'Arezzo prova a scuotersi, inserendo Nocchi, Mazzini e Mattiaccia al posto di Paganini, Arzedi e Mencucci, ma a chiudere la partita e i giochi, la squadra di De Biasi-Dario. Con la doppietta di Zanon nuovamente su azione d'angolo, disattenta anche in questo caso la retroguardia a Maranto, visto che a numero 11, rosso-blu, stacca indisturbata dentro l'area di rigore. L'Arezzo non riesce quindi nell'impresa di racimulare punti contro una big del girone. Dopo le sconfitte con Sassuolo e Castelvecchio arriva anche quella contro il Vittorio Veneto e rimane in classifica a 17 punti e si fa scavalcare dal Grifo Perugia. Settimana prossima impegno in casa del Gordige, andata fu solo un pareggio a Lorentini. Anzarena Grilli, neotecnico, nuovo tecnico dell'Arezzo, calcio femminile, quest'oggi è un battesimo di fuoco, ma l'Arezzo che ha giocato molto bene contro il Vittorio Veneto in ampi margini della partita. No, ma molto bene no, non direi, perché abbiamo commesso errori proprio grossolani nel gestire la palla e con una squadra di questo livello ci hanno penalizzato. Sono errori di gioventù che spero in settimana di lavorarci un po' sopra perché abbiamo preso anche due gol su palline attive con gente che ha saltato libera in aria. Però alcune cose buone ci sono state, quindi mi è piaciuta soprattutto la prima mezz'ora, poi ci è preso un po' anche il nervosismo, un po' di cose. Però penso che questa settimana io ho lavorato poco con le ragazze, adesso da settimana prossima inizieremo un po' a dare quello che è anche il mio credo calcistico. Quindi peccato perché l'avevamo ripresa sull'1-1, abbiamo avuto anche l'occasione del 2-1, però con queste squadre non bisogna commettere gli errori e oggi purtroppo noi abbiamo commesso troppi errori. Ecco, molti di queste ragazze, l'Arezzo Calcio Femmile, è il primo anno che fanno la Serie Bipole, con la sua esperienza cercare anche di farle crescere per aumentare anche il progetto tecnico dell'Arezzo? No, ma guarda, qui è stato già fatto un grandissimo lavoro da parte di Emanuela, però secondo me ancora ci sono delle cose che non hanno acquisito bene, giocano ancora un po' troppo a livello oratoriale, se vogliamo, diciamo, e talvolta non hanno quella personalità per gestire alcuni momenti topici della partita. A questo comunque sono anche un gruppo giovane, in un percorso di crescita ci sta, però la domenica bisogna cambiare musica, se no diventa dura. Siamo qui con Mantuani, centrocampista del Vittorio Meto, quest'oggi una vittoria per 4-1 contro l'Arezzo, una vittoria anche sofferta nel corso della gara. Sì, abbiamo sofferto nei primi 10-20 minuti del primo tempo, non riuscivamo a dare gioco, a far girare la palla, dopodiché abbiamo avuto, diciamo, su un tiro la fortuna del gol, poi abbiamo segnato subito dopo il rigore che abbiamo preso e poi abbiamo iniziato, diciamo, a fare il nostro gioco. Sapevamo che la partita era molto difficile, sapevamo che l'Arezzo cercava i tre punti anche col fatto del cambio della nuova allenatrice. Il nostro obiettivo era portare a casa i tre punti nel più breve tempo possibile, ci siamo riusciti e adesso pensiamo alla prossima partita. Probabilmente l'avversario per la promozione sarà il Sassuolo, il Vittorio Meto, in questa Serie B. Noi adesso dobbiamo recuperare ancora una partita contro il Pescara e quindi adesso siamo a punto dal Sassuolo. Loro ha una partita in più, tra due settimane, se non sbaglio, giocheremo lo scontro diretto. L'andata abbiamo vinto per 1-0, sappiamo che non è la squadra dell'andata, sono cresciute molto nel corso delle partite contro le altre squadre, vedendo anche tanti gol che hanno fatto. Noi giocheremo in casa, quindi sarà un punto a nostro favore, cercheremo di fare il risultato, che è la vittoria, portare a casa i tre punti e cercare il sogno che è la promozione.